Nell'era tecnologica il mouse è il nostro braccio virtuale. Grazie ad esso come tutti sapete possiamo utilizzare con grande facilità il computer. Ovviamente non tutti fanno lo stesso utilizzo del computer e per questo motivo ci sono varie tipologie di mouse che privilegiano determinati aspetti rispetto ad altri. Il mouse che andremo a vedere in questa recensione è il KlimSkill prodotto dall'azienda KlimTech, un prodotto davvero molto valido soprattutto visto il suo prezzo. Per prima cosa ci tengo a precisare che la fascia di mercato a cui si riferisce questo mouse è principalmente quella del gaming, tuttavia io lo utilizzo anche per montare video quindi ve lo consiglio sia per il gaming sia per il montaggio video. La confezione all'interno della quale arriva il prodotto è piuttosto piccola e lo raffigure in ogni facciata con un piacevolissimo effetto liscio opacco e con dei colori accattivanti. Tuttavia il suo interno è piuttosto scarno, troviamo solo un libretto di istruzioni ed il mouse avvolto in un piccolo imballaggio. Una volta preso in mano il mouse la prima cosa di cui ci accorgiamo è la qualità dei materiali con cui è costruito, il mouse è solido e i materiali sono piacevoli al tatto. La parte superiore che va a contatto con il palmo della mano è gommata e assicura una presa salda anche nel momento in cui la mano è un po' sudata. Sempre nella parte superiore troviamo la rotellina e due tasti personalizzabili. La parte laterale è invece in plastica rigida che pur non essendo gommata presenta una lavorazione a poire e che garantisce un ottimo grip. Inoltre grazie ad una forma particolare riusciamo ad avere un'impugnatura comoda. Sempre nella parte laterale troviamo due tasti personalizzabili. Il mouse è un po' pesante ma nonostante tutto scivola davvero benissimo al momento in cui andiamo ad utilizzarlo. Dal punto di vista costruttivo questo mouse è perfetto. La sua particolare forma fa sì che anche dopo una lunga sessione di utilizzo la mano non è risenta. Ed inoltre i tasti sono posizionati intelligentemente in modo da poter essere raggiunti facilmente con le dita. Il punto di forza di questo mouse è la personalizzazione. Pur essendo un mouse plug and play c'è la possibilità di personalizzare i tasti attraverso un software fornito dall'azienda stessa e reperibile nel sito dell'azienda. Attraverso il software possiamo personalizzare al meglio questo mouse oltre ad assegnare una determinata funzione ad ogni tasto. È possibile regolare una serie di parametri ed inoltre è possibile regolare i colori della fascia LED che troviamo nella parte superiore del mouse. Un'altra modifica che ho trovato molto utile è quella della velocità del doppio clic. Altro punto di forza di questo mouse è la possibilità di regolare i dpi. Si parte da un minimo di 500 per arrivare a un massimo di 4000. Questo ci permette di avere la giusta sensibilità in ogni momento e proprio questo lo rende adatto a diversi utilizzi ed in particolare al gaming. Il livello scelto di dpi sarà possibile visualizzarlo nella barra LED attraverso la scala cromatica che è personalizzabile anch'essa. In generale possiamo dire che un ottimo mouse e il suo prezzo, se paragonato alla qualità, è davvero molto basso. Per noi di Ytouch si tratta probabilmente del miglior mouse da gaming sotto i 30€. È possibile acquistarlo attraverso il link qui sotto in descrizione.